Juana Ines della Cruz Si rammarica della sorte, confessa la sua avversione per i vizi e spiega la sua attrazione per le muse. Si rammarica della sorte, confessa la sua avversione per i vizi e spiega la sua attrazione per le muse. Attormentarmi, mondo, a interesse, in che ti offendo, quando solo tento di dar bellezze al mio intendimento e no il mio intendimento alle bellezze? Io non stimo tesori né ricchezze, sicché sempre è maggiore il mio contento, se do ricchezze al mio intendimento, e no il mio intendimento alle ricchezze. E non stimo avvenenza che asservita sia una spoglia civile dell'età, né ricchezza mia baglia malgradita, prediligendo, in ogni verità, consumar vanità della mia vita, a consumar la vita in vanità.